Ben ritrovati alla visione e all'ascolto di questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, quindi la stagione invernale è partita anche in Valle del Biois, Schiara San Pellegrino e in particolare a Falcade. E proprio per parlare di questa località, ma non solo, delle località turistiche della Valle del Biois, abbiamo la nostra grandita ospite Antonella Schiena, presidente di Promo Falcade. Ben ritrovata. Grazie per l'invito. Ben ritrovata Antonella Schiena. Dunque, anzitutto, Promo Falcade, una proloco, un consorzio turistico, ci spiega un po' il senso di questo organismo nato da qualche anno? Sì, ormai sono tre anni che Promo Falcade è nata, è nata proprio nel pieno del Covid nel 2020. È un misto fra un consorzio e una società, sarebbe una consortile, ma per semplicità lo chiamiamo consorzio. Diciamo che è a supporto degli enti che erano già presenti in Valle, come le proloco, perché comunque in Valle del Biois c'è la proloco di Caviola, di Canale e di Vallada, ma loro si occupano degli eventi in zona, in loco proprio, in proloco. Invece noi ci occupiamo della promozione, sia in Italia che all'estero, di tutta la Valle del Biois, quello che è tutto il marketing e la pubblicità della nostra bellissima località in tutto il mondo. Certo, raccogliete quindi anche le attività delle varie proloco e dei vari sodalizi per promuoverle, chiaramente come ci ha detto lei, in Italia e all'estero. Esatto, la collaborazione per fortuna è molto buona, c'è un lavoro costante, anche appunto per coordinare degli eventi e per promuoverli. Certo, ora all'interno di DMO chi sono i soci o comunque chi fa parte di questo consorzio? Allora, all'interno della DMO gli organismi riconosciuti sono i consorzi, quindi in questo caso è appunto Promo Falcade che rappresenta la Valle del Biois a livello provinciale. Ok, voi avete quindi rifugisti, albergatori all'interno di Promo Falcade e chi è che aderisce a Promo Falcade? Tutte le persone che sono coinvolte nel sviluppo turistico della Valle sono coinvolte, appunto in primis gli albergatori, però i soci della Promo Falcade sono anche la Sottra Impianti, la Schiaria San Pellegrino, le due scuole sci, la scuola sci Falcade e la scuola sci Equip. E poi ovviamente collaboriamo anche con tutti gli altri, con la scuola sci Nordico, con lo sci Club del Biois che gestisce le piste di sci Nordico, con gli operatori commerciali, tutti i negozi, i noleggi, i rifugi, ma anche gli artigiani perché anche gli artigiani comunque contribuiscono allo sviluppo turistico della Valle, le agenzie immobiliari, insomma tutte le persone che sono interessate a far crescere a livello turistico la Valle. Certo, quindi non un doppione del proloco ma un organismo specifico. Ho citato Valle del Biois, Schiena, correttamente oppure no? Nel senso Promo Falcade, Falcade è il nome della località turistica più rappresentativa della Valle, ma le chiedo, nel Promo Falcade ci sono anche enti piuttosto che privati di altre località? Assolutamente sì, infatti noi collaboriamo con tutta la Valle perché vogliamo promuoverla proprio a livello di territorio intero, si chiama Promo Falcade perché Falcade ormai è un marchio riconosciuto anche a livello internazionale, è più facile quando si va in giro per Fiero, per promuovere la località che conoscono Falcade piuttosto che la Valle del Biois, anzi tante volte lo storpio non la chiamano la Valle del Bois oppure altri nomi e quindi abbiamo scelto questo nome perché è già riconosciuto, però ci avvaliamo ovviamente anche delle bellezze delle altre località che sono Canale d'Agordo con il suo Papa, la Valle di Gares, la Vallada a Gordina con la splendida chiesa di San Simon e i suoi borghi, il Comune di San Tommaso a Gordino che si dota ultimamente di tantissime offerte dalla vertica area alle dromiti in miniatura e comunque collaboriamo anche con il Comune di Cinciniera a Gordino, quindi cinque comuni in una valle intera che vogliamo promuovere come un territorio unitario. Certo, un territorio unitario quindi in una stagione turistica che ha preso il via, evidentemente andiamo verso le vacanze di Natale e quindi a livello di eventi, tra l'altro in una schiera a San Pellegrino ci sarà anche la Coppa del Mondo di Scialpino, cosa propone Falcade e le altre località in estrema sintesi chiaramente? Si prospetta adesso un inizio di stagione molto interessante e anche il proseguo comunque fa ben sperare. Iniziamo proprio subito adesso con il Ponte dell'Immacolata, con l'appuntamento classico di inaugurazione della stagione invernale che è l'accensione dell'albero, in collaborazione con la Scuola Scinordica, la Scuola Scifalcade, ci sarà questo evento che ormai sono anni che viene proposto sulla piana e che attira tutti gli anni tantissime persone per un brindisi per far iniziare bene questa stagione. Contemporaneamente inizieranno anche i mercatini di Natale sulla piazza di Falcade, mentre il giorno dopo, il 9 di dicembre, ci sarà l'accensione a Canale d'Agordo, per la prima volta ci sarà questa collaborazione con la Provoca di Canale d'Agordo per questo evento di inizio stagione e a Caraviola invece ci saranno anche lì i mercatini di Natale. Proseguendo appunto i mercatini di Falcade andranno avanti fino all'Epifania, e poi ci sarà il grande appuntamento di Capodanno, anche questo ormai sono diversi anni che viene proposto, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ci sarà il Capodanno in piazza con DJ e brindisi a mezzanotte. Certo, quindi appuntamento gratuito, consolidato, spostato di location, mi pare, dalla piazza del municipio verso il parco giochi. Sì, esatto, perché è più ampio, quindi riesce ad accogliere più persone, perché di anno in anno cresce e anche più sicuro, perché non essendo sulla strada offre una maggiore sicurezza. Ho accennato alla Coppa del Mondo di Scialpino a febbraio, avete già pensato a qualche cosa, magari un evento correlato a questo appuntamento a schiena? Beh, la schiarea San Pellegrino sta lavorando ormai da mesi, con molto impegno per questo appuntamento, che davvero ci dà un grande orgoglio, perché è ospitato appunto la nostra schiarea. Sarà la pista alla volata, che ospiterà questo evento, sarà a febbraio e stiamo molto, tutti aspettando molto questo evento. Nel frattempo anche appunto i rifugi della schiarea si stanno attivando in previsione dell'evento, con delle feste, e ricordiamo anche che il rifugio della Resei si sta preparando anche per la festa di fine stagione, come l'anno scorso, che avverrà ad aprile. E quindi anche c'è un evento di inizio stagione e uno di chiusura. E quindi una stagione che mi sembra di capire, beh, dal punto di vista degli eventi sicuramente è molto ricca. Dal punto di vista delle previsioni, schiena, voi come Pro Falcade avete già un sentore di come potrebbe andare questa stagione? Sì, ovviamente noi sentiamo i nostri operatori turistici, che ci hanno confermato che la stagione si prospetta molto positiva. Quest'anno la Pasqua, tra l'altro, sarà bassa, sarà il 31 di marzo, quindi c'è la possibilità di poter proseguire fino a Pasqua con le piste della Schiave a San Pellegrino, che sono sempre preparate in maniera ottimale. Già appunto nelle scorse settimane abbiamo visto delle luci sul Passo San Pellegrino, sul Camargrita, quindi si vede che sono già all'opera impiantisti per preparare al meglio le piste. E credo che anche i turisti, sia stranieri che italiani, non mancheranno. Allora, Schiave, lei è anche albergatrice. Il turista d'inverno richiede gli eventi magari del vedere la tipicità dei paesi, i musei, piuttosto che le varie tradizioni, oppure si, tra virgolette, accontenta della giornata di sci, guardando anche al portafoglio magari? Il turista, diciamo, invernale ed estivo, abbiamo visto che è molto diverso. Lo dice anche la Fondazione Papa Luciani, che gestisce il museo, che è dedicato al Papa, c'è un maggiore afflusso d'estate, di persone interessate alla cultura. Probabilmente il turista invernale è più interessato all'outdoor e agli sport. Ovviamente però gli piacciono molto anche le tradizioni. Infatti l'evento di carnevale, che è il tradizionale della Valle del Bios, e la Zinghenesta, questa bellissima ragazza che rappresenta il carnevale dolomitico, attira ogni anno tantissime persone che vogliono appunto toccare con mano vedere la cultura delle valli dolomitiche. Certo, per non parlare di Sede Smonteghe, all'evento autunnale che richiama sempre migliaia di persone. Quello ormai è il clou proprio della tradizione. Esatto. Senta, i turisti stranieri sono attesi anche in Valle del Bios per questo inverno? Certo, in inverno si registra una grande percentuale di turisti stranieri, turisti dell'est Europa, ma anche del Regno Unito, anche del Belgio, quest'anno un pochino meno della Germania, ma si vede appunto che al turista straniero piace tornare. Io ho chiesto anche ai miei clienti come mai, partendo dal Galles addirittura, o dall'Inghilterra, fanno tutta questa strada per venire a sciare sullo Dolomiti. E mi hanno detto che un territorio così bello, con delle piste tenute così bene, si trova da poche parti nel mondo. Esatto. Il rincaro dei prezzi, gli ski pass sono aumentati, come sappiamo, di variazioni comprese fra il 6-8%, comunque si parli di queste percentuali. Spaventano un po' i turisti oppure siamo disposti a fare qualche sacrificio in più, secondo lei, accorciando magari la vacanza? Io ho visto che adesso magari sono più interessati a quelle che sono le promozioni, ad esempio il SuperSki adesso inizia stagione al Super Premier, che permette di sciare una giornata gratis, oppure anche acquistando online lo skipper si può avere uno sconto del 5%. Ho visto che appunto i turisti vengono comunque, ma stanno magari più attenti a queste cose, acquistando online oppure approfittando delle promozioni. La durata della vacanza a schiena in media? Allora, di solito i turisti stranieri fanno una settimana, quindi la classica settimana bianca, anche perché comunque la strada per arrivare è lunga. Gli italiani magari preferiscono un weekend lungo oppure i ponti. Ecco, il turista straniero, il turismo dell'est, la tendenza degli scorsi anni, magari in gennaio quando si smaltisce la grande folla delle vacanze di Natale, è consolidata questa esperienza oppure altri mercati di riferimento? Diciamo che il mercato dell'est ormai è uno dei nostri mercati di riferimento, infatti noi investiamo anche le nostre risorse, anche professionali andando a trovare queste sci-club, oppure queste agenzie viaggi direttamente nei loro paesi, andiamo in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovenia, e quindi vediamo che loro ritornano anche con piacere e il fatto che le loro vacanze siano diverse dalle nostre e si spalmino durante anche le stagioni un po' più basse, come appunto gennaio, ci aiuta a far proseguire bene la stagione con una buona capienza. Certo, la vostra attività ci ha parlato di fiere, promozione internazionale, in questo inverno vi fermate e vi concentrate nel vostro lavoro, ognuno nel proprio lavoro di albergatori o di operatori comunque del settore turistico, oppure ci saranno anche delle presenze in eventi internazionali? Allora, le fiere di solito sono appunto in primavera e in autunno, questo però non toglie che la nostra promozione continui anche durante la stagione invernale, proprio adesso appunto a inizio dicembre saremo presenti ad esempio a Venezia, allo stadio Tagliercio della Reier, perché ormai da tre anni siamo sponsor dell'Umana Reier e questo ci permette di essere presenti alle loro partite in casa per fare promozione della nostra località. Ci sarà appunto una gara di Europa Cup con Lions Londra e quindi ci permetterà anche di farci conoscere non solamente ai tifosi di Venezia che ormai conoscono Falcade perché è la loro casa estiva, ma anche ai turisti inglesi. E allora Schiena, auguriamo un buon lavoro a lei e a tutta la promo Falcade, un buon inverno e grazie per essere intervenuta ai nostri studi. Grazie ad Antonella Schiena. Grazie a voi per l'invito. E a voi tutti gentili telespettatori e telespettatrici, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana per un altro numero di Dolomiti Turismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.